Amici amici, Igor presenta concorrenti gara di Aquiloni. Ecco a voi Gus e suo Aquilone Super Puzzolone. Neko con suo Aquilone Quadrifoglio. Cosmo e suo Aquilone Raggio. Boss, il suo temiebile drago nero. E infine i Buffy Cats con loro Aquiloni. Il Buffy Aquilone, Igor. Il primo Aquilone a raggiungere la mia mongolfiera vincerà. Mentre se un Aquilone tocca terra sarà eliminato. Pronti? Gara inizia. Adesso! Aquilone Super Puzzolone di gas vola altissimo. Sì, stavolta ce la farò. No, e invece non ce la farò. Pecchiato. Aquilone Super Puzzolone toccato terra. Eliminato. Aquilone di Neko altissimo. Drago nero superato Aquilone di Neko. Sfortuna per Neko. Gatto fortunato. Eliminato. Wow, e invece ho trovato una ciotola d'oro. Buffy Cats e Cosmo quasi vicini a Aquilone di Boss. Aquilone razzupola altissimo. Forse primo Aquilone che arriva sul sole. Un piccolo passo per un gatto. Un grande passo per il mondo pelino. Houston, abbiamo un problema. Sarai il mio drago nero a vincere. Questo lo vedremo, Boss. Aquilone di Boss vola davvero altissimo. Igor, posso giocare anch'io? Baby Pie, tu in ritardo. Gara ormai già iniziata. Ma Aquiloni fatti per volare, tu puoi farcela. Evviva! Amici amici, ecco a voi ultimo concorrente. Baby Pie è suo baby Aquiloni. Iscriviti al canale.